Grazie Presidente, ma vede Assessore io vorrei richiamarla su un caso che ha in qualche modo dato l'avvio alla verifica di questo disegno di legge. Il caso, se voi andate nelle mail di trasmissione ai gruppi, ha visto arrivare una prima versione del disegno di legge 121 e poco dopo sostituito da una nuova versione della proposta di disegno di legge 121 dicendo che la motivazione era per un mero errore formale. C'è stata un'erata courage, andate a vedere, solo che i due testi avevano una diversità non minimale, spariva rispetto al vecchio testo, aveva un articolo 3 che prevedeva che l'amministrazione regionale era autorizzata a trasferire ai Catt, del Friuli Venezia Giulia, per lo scorrimento delle graduatorie nel settore del turismo e la cifra stanziata era di 8 milioni di euro. Il testo che è arrivato due ore dopo, sei ore dopo, non aveva, conteneva più l'articolo 3. E tutto l'ammontare del disegno di legge era riservato invece all'espirito della legge 3 e poi 5 sui ristori. Tant'è che, Assessore, la sua dichiarazione del 27 dicembre dice che sarà la giunta regionale con propria delibera a determinare i beneficiari, i criteri, i contenuti, eccetera, di fatto evitando a questo punto di riservare 8 milioni dei 22 ad un settore specifico che era quello dello scorrimento delle domande del turismo. A parte il fatto, Presidente, che forse un'attenzione rispetto ai testi che arrivano con delle correzioni che non mi sembrano così minimali, ma sostanziali, trasmesse come comunicazione, come una semplice modifica formale, ecco io credo che, perché se un testo è approvato dall'aggiunta, esce dall'aggiunta per essere inviato in un certo modo, cioè non è che poi può essere stravolto da una comunicazione formale, scompare un articolo che prevedeva 8 milioni di euro, 8 milioni di euro, qui ci sono i due testi, eh? Allora, questo è un primo dato, ma giustamente il nostro redattore, Bordonello, dice siamo nello spirito, siamo nello spirito di prevedere una disponibilità importante che viene, in qualche modo, riconosciuta anche alle nuove esigenze di ristoro, di sostegno al comparto, ai comparti in difficoltà. Fra queste, ovviamente, penso alla ristorazione, i bar, il turismo, sono dei comparti in grande difficoltà. Io, ossessore, lei sicuramente avrà avuto tante di queste richieste, ma le porto l'esempio. Qualche giorno fa un amico che gestisce un ristorante mi dice, sai, sì, va bene, ristori una tantum, però io che ho quattro dipendenti, che ho un'attività in un certo modo, prendo 3 mila euro, 4 mila euro, quello che era, come il ristorante di gestione familiare che chiude, dice, solo per fare le pratiche, per la cassa integrazione, la pratica, ogni mese, mi costa 100 euro il cedolino, il consulente del lavoro, solo per fare la pratica, solo per coprire quella parte di disoccupazione che la cassa non copre, cioè il festivo, il festivo, lo straordinario, a me costa 200 euro al mese. Quindi io sto chiuso, ma avendo quattro dipendenti, avendo un certo livello, eccetera, ho un costo fisso, anche chiuso, che forse è diverso rispetto al bar, gestione familiare, che chiude. Allora, è chiaro che è giustamente, credo, di condividere quello che dice la Giunta. Facciamo un provvedimento che vada ad analizzare in termini più diretti, più necessari, quello che è la necessità di sostegno a dei settori. Porto un esempio così tanto per. Improvvisamente, invece, adesso, quasi come una inversione di tendenza, ritroviamo le riserve indiane. improvvisamente ci arriva un emendamento che prende 150.000 euro e dice, ma questo serve a finanziare che cosa? Una misura per ipotetici consorsi, guarda caso 3, con una dimensione minima di intervento, guarda caso 50.000, 3 per 50 fa 150, guarda caso batte con lo stanziamento di bilancio, guarda caso, e dice, ma lì invece li diamo così. No, abbiamo nulla a chiedere, ma allora perché non diamo invece a 40 ristoranti 3.000 euro che fa sempre 120.000? Perché non diamo a 40 ristoranti che forse hanno più necessità dirette di sostegno? O perché non pensiamo che ci sono altre aree? Non so, le città d'arte, le città ex unesco, le città marine che hanno necessità. Io dico, cioè, io condivido, Assessore, la sua linea, la dichiarazione sua del 27 dicembre, che dice, sarà la giunta regionale con propria deliberazione a determinare i beneficiari, i criteri, le tipologie di contributo e le risorse da assegnare specificatamente a ciascuna categoria. Il provvedimento sarà discusso e approvato in Consiglio regionale e qui siamo per approvare questo. Mentre invece adesso troviamo, improvvisamente, che nascono delle condizioni per cui non si sa perché abbiamo tolto il provvedimento che faceva scorrere le graduatorie delle attività produttive, ristorazioni, alberghiere, eccetera, però si inserisce una norma che crea una nuova riserva indiana. Guarda a caso, nei numeri, nei conti, che anche batte con lo stanziamento. Magari è poca cosa, mi si dirà, è vero. Ma allora perché non finanzia 40 ristoranti con 3.000 euro l'uno? Perché oggi non siamo in grado di portare sino in fondo, Assessore, quello che lei ha dichiarato e quello che si è impegnato a fare con la Commissione Consiliare, cioè quell'approfondimento sulle necessità vere, che possono anche essere quelle scritte qui o altre. Penso a quelli che sono, certo, quelle reti consorzi, reti di impresa, che hanno forse ancora loro, le agenzie turistiche, che hanno la necessità, essendo dei sistemi a rete, anche loro di essere sostenuti. Ne sono profondamente convinto. Io le avevo portato un esempio, le avevo anche consegnato una nota anche di alcune correzioni formali che necessitano rispetto a delle previsioni che erano state fatte. Le avevo portato l'esempio di un codice a teco per quanto riguarda, ad esempio, le associazioni del terzo settore, laddove la sua direzione chiedeva il doppio requisito, iscrizione al ruolo unico del terzo settore e al registro delle imprese. Mi aveva detto che aveva capito in Commissione quando le avevo detto che non era possibile la doppia iscrizione, perché una società del terzo settore può essere scritta solo al ruolo unico del terzo settore, non può essere scritta al registro delle imprese, è proibito dalla legge. Quindi se lei dice che per avere il contributo devono avere questo e quello, lei fa un errore, non le associazioni. Ma queste, pensavamo, potesse essere oggi riportato in un ragionamento complessivo che è quello della delibera, che è quello del confronto con la Commissione e che è quello che diceva il nostro relatore, che è quello appunto di una capacità forse anche di vedere un po' avanti e non ricorrere poi a quelle che sono forse delle semplificazioni di cui ogni passaggio legislativo dobbiamo verificarlo perché o in un modo o nell'altro poi porta una fish proprio sempre ad una specifica realtà. E questo, se ci faccia dire Assessore, se vuole l'elenco glielo facciamo, ma non è corretto nei confronti di una necessità di bisogno complessivo quale oggi quella del sistema della nostra regione economica. della nostra regione. Grazie. 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 Grazie.